Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di LeonTrip, siamo qui ancora una volta con The Arab Billions per continuare la nostra avventura Allora, stavano arrivando degli zombaci da qua, non me ne ho colto l'ultima volta e quindi proviamo a spaccargli le chiappe Per se è possibile Dai, dai che ce la fate, grande Sono arrivati un po' di lavoratori quindi io andrei a fare un paio di cecchini, un paio di questi, posizionarli un po' qua Per il momento, non so mai che tante volte Allora, qui, l'ultima volta io avevo fatto la torre però ho dovuto ricaricare la partita perché si è flippata tutto E la torre non c'è La mettiamo Vediamo se possiamo farla, yes Un'altra cosa che vorrei provare a fare è il Vesper Però non so, parlo 320 Non so se posso sparare Attraverso i muri Dobbiamo provare Quindi se io lo piazzo qua, tipo Spara attraverso il muro Un momento, vediamo Allora Tipo, eh E mal che vada io me ne attrezzo una Ne metto una anche qua Sicuramente spara Non c'è il muro in mezzo Allora andiamo a vedere Prova No, scusa Prova a uscire di qua Tira un po' di zombacci Tanti tanti zombacci per favore Tiriamoli Grazie Possiamo tirarne un po' Ok Senza morirci, grazie Ok Sparagli un po' Tentiamo di rientrare adesso Qua dentro Vediamo se il Vesper spara Manco è arrivato Bene Vabbè Ma confido che spari No Cacchio ne so Allora mi vorrei trovare Nella merda Che poi alla fine Non mi sparano Scusa Posso No Posso attivarla un attimo Volevo Scusate Cacchio Vabbè Non scopriremo mai Se sparo o no Spero che spari Attraverso il muro Qualcosa Andiamo a ripulirvi Di qua ragazzi Proviamo Ma si qua Non la vedete Non è che ci sia proprio Una gran cosa Dai E' tutto libero Qua è tutta la zona ragazzi Cominciamo a prenderci Scusa me Un sacco di cibo Ai lati Sono un sacco di alberi Possiamo Dare un mucchio di legno Eh si 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 Ci sta Allora Per non sapere Nella generale Io mi prenderei Sta zona No Fino a dove è possibile Mettiamoci giusto Degli arcieri qua A presidiare Questi I tre Stanno bene qua E da qua Qua Ok è un po' lungo Però Portate pazienza Ok perfetto Allora adesso Da qui noi stiamo a posto Lì stiamo facendo altra roba Beh per adesso Li piazzo qua ragazzi Anzi no Sto cacchio Vado a ripulire Vado a ripulire Perché è arrivato il momento Di fare una bella pulizia Ma se Prendiamoci dei soldati Qua Andiamo a fare Un bel lavoro di pulizia Totale Non so se basti Però Tanto Lorda Arriva il giorno 50 Dobbiamo attrezzare Un po' di Di difese Quello poi lo vedremo Cecchini Cecchini richiedono Lavoratori Cibo Legno Ferro Va bene Facciamoci i cecchini Cominciamo a costruire Dei cecchini Arruoliamole Dopodiché Legno Ok Energia come stiamo messi Abbastanza bene Andrei a fare un upgrade Delle case Così al momento Mi prendo sto legno qua Che è qua disperso Perfetto Vado anche a fare Un upgrade Di tutte le mura Beh di tutte Di quelle che sia possibile Farle ecco Poi vediamo Ok Intanto ragazzi Vado avanti A costruire le tesla Via qua Via qua Andiamo a vedere un po' Sto facendo Sto facendo gli sfacelli Questi qua Io ragazzi Andrei adesso A mettermi Un'altra caserma Però non abbiamo Abbastanza pietra Ne abbiamo messo Una qua Proviamo a metterne Una qua Salario 2 Non ne ho un'idea Ragazzi Mettiamo Una qua Una qua Possono essere Utili ste cose Ma qua Invece le spammiamo No Mettiamone una qua Non abbiamo più oro Bene Qua ne metterei altre Ma vediamo Ragazzi Sparano attraverso Le mura Ok Altrimenti Abbiamo buttato I soldi Casupole Momento Perché Che è successo qua Ah La ballista Ce la fa da sola Questa si Questa si Eh La fa anche Eh vabbè Ce lo ricostruisco Questo Eh ci vorrei mettere Aspetta allora Dobbiamo attrezzarne Una qua E una qua Per il momento Possiamo metterne Due vicine Anche si Togliele spam Mo vediamo eh Ragazzi Mi ha fatto una Stronzata Di Proporzioni Colossali Andiamo a vedere Va Andiamo a Atrezzare un po' Di sta roba Spara Spara Del ferro Del legno Allora Visto che abbiamo Del legno Ah Un momento Raga Dov'è la nostra Eccola qua Vorrei farmi La centrale Elettrica Anche il lancio Vulmini Ci sarebbe Eh quello Sarebbe ottimo Mi servono le case Perché stiamo Offrendo l'energia Ma Le case Mi servono Ok Ok per il momento Adesso voi state lì Tanto gli zombie Li abbiamo fatti fuori E Vado a costruirmi Queste Avanti di qua Ah no Non si può più andare avanti Bene Quindi questa sarà La nostra linea Di difesa Da qua Non ci si va più Ok Mi serve il legno Serve il legno Ok Vai con il legno Qua Perfetto Un altro po' di legno Qua si Ok 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 molto bene Ah ma cazzo Ma questi adesso rimangono lì Eh vabbè Addio Le balli No dai poracci Porca c'è la miseria Aspetta Dai rientrate va Mente qua Se è possibile vi salvo Da qui Da qui Ok Ok E ci vado a rimettere qua ragazzi Le mie mura Perfetto Attualmente stiamo messi abbastanza bene Qua no Non so perché ma qua no Quindi facciamo una roba così Spammiamo Io qua ci vado a mettere Speriamo che queste cose veramente Speriamo veramente che funzionino queste cose Ok Lo vediamo Perfetto Vuoi prendere sta pietra Abbiamo anche dell'oro Bene Prendi anche dell'oro E ragazzi Devo andare ad attrezzare Il mercato Assolutamente Senza mercato Non si va da nessuna parte Semplicemente perché Il nostro surplus Non lo stiamo vendendo E quindi Mi serve il mercato Per fare il mercato Non mi ricordo dove cavolo sta Il mercato Lo qua Potremmo anche mettere qua Non è molto efficiente Sarebbe efficiente qua Ma Purtroppo Dobbiamo adattare Anche qua ci sta Mettiamolo qua Vediamo che passino I nostri tizi Va bene Dobbiamo anche metterlo lì Ora noi dovremmo vendere C'è tutto il Il meglio del meglio Qua no Le risorse che facciamo in più Dovrebbero andare vendute Qua c'è qualcuno Oppure stiamo a posto Mi sa che stiamo a posto qua Qua passa il treno Quindi non credo Che vengano da lì Qua se stiamo a posto Molto bene Anche qua mi piacerebbe Venirci con Le Tesla Io vado ad attrezzare Cazzarola Un momento Io qua adesso Mi vado a mettere questi qua Che mi facciano un bel Bel da qua Qua Sperando che non mi crepino E questi invece vado avanti Ok Energia stiamo scarsi Però Quando riusciamo Ad avere la centrale elettrica Secondo me Centrale elettrica Eccola qua Se la possiamo mettere In un punto Un po' Qua Tipo Ecco la centrale elettrica qua Stiamo a Upgradare le nostre case La centrale elettrica Ci fornire Ci dovrebbe fornire Un botto di corrente Alla fine dei conti Quindi stiamo Parati abbastanza Tu mi costruisci Guarda La fonderia O la villa di pietra Fai la villa di pietra Nel frattempo Il mercato come stiamo messo L'abbiamo fatto Sì Bene Allora noi ragazzi Andiamo avanti Di qua E va bene E va bene ma non riesco ad arrivarci qua con Questo La corrente Non ci arriverò mai E la ma La peppa Bene Pian piano Però Troppo pian piano Questo gioco dovrebbe inventare Generatori portatili Allora abbiamo 165 di corrente Adesso Quindi possiamo andare a fare Un bel upgrade Delle nostre case Abbiamo dell'oro Quindi possiamo andare a cercare La fonderia Qua casa di pietra Ragazzi c'è addirittura Ok Adesso qua Ci siamo arrivati Lavoratori Maledetti Proviamo ad espanderci ma Beh Vediamo va Andate dritto per dritto Il treno Vediamo Che scasseranno quelle robe Ah però eh Ah se ne stanno eh Di gente qua Aspetta qua un attimo a giocare Che noi Da qui Dobbiamo fare Altri soldati Ma mai delle volte Chi Dove Quando Perché Che senso Ha infettato questo building Ma dove cazzo sei uscito Tu che hai infettato quel building Chiedo scusa eh Ok Oh che cazzo era uscito questo Oh vabbè Andiamo sempre più avanti Proviamoci Qua va dai Tre lì Ok Anche di pietra Falle anche di pietra Anche se I muri Dovrei fare di pietra Più che Se io riesco ad arrivare lì Che non ci arriverò mai Qua stiamo parati Ok Ragazzi Sennò mi viene da vomitare Ok Qua Non ne vedo però Di giacimenti Perfetto Qua si però è pieno di zombie Qua no È l'unico qua Proviamo ad andare a vedere va Siamo vicini al giorno 50 Il magazzino Dove lo posso attrezzare il magazzino Un momento ragazzi Mettiamo in pausa un attimo Il magazzino io lo farei qua Fammi un magazzino Andrì a mercato Un magazzino Perché Pietra a 40 Azzo Scusami eh Pietra a 40 Cosa possiamo vendere Del ferro Del legno Mi fai un magazzino qua Lavoratori 10 Sono arrivati sti lavoratori Scusate Fammi degli altri lavoratori qua Finito praticamente il cibo Ho finito tutto Va bene Comunque adesso noi qua Andiamo a Prenderci il cibo 50 34 58 3 qua dai E un'altra qua dopo Vabbè Cibo c'è I lavoratori mancano Strano Molto strano in realtà Che mancano i lavoratori In questo gioco Potrei anche Fare una Qualcosa Qua Ma Manca il cibo Ok Va bene Adesso arriva 10 13 17 16 16 18 17 16 14 13 Va bene 15 Vabbè adesso il cibo arriverà Noi andiamo sempre avanti Finito quasi Dai che sta arrivando l'orda Che non va bene Ah lì c'è l'oro però Dai che dobbiamo riuscire a passare No ci sono le case Merda Da ovest No vediamo da dove arrivano eh Eh sì lo so che muori E' una pippa al sugo Non è colpa mia Vai Spagga sta casa Riuscire a attraversare sta zona in realtà Fermi tutti Arrivano da qua Arrivano da qua Dove ci sono questi Sì Dove ci sono questi Però se io li porto qua su Questi mi spaccano tutti questi Porca Caccia la miseria Bene cosa non riesco ad attirarli Dall'altra parte Dai dimmi di sì Magari li attiro laggiù Eh Che dici Che tiro qua giù Posso attirarli qua giù da qualche parte Scusatemi Venite un attimo qua Ecco Ecco Grazie Tutti qua Eeeh Qualcuni sono scappati però Sì me le spaccheranno comunque Aspetta vediamo va Fermi Fermi Tutti Tutti qua Venite verso di me Tutti Tutti Venite verso di me Bastardi Tutti qua Ok Venite 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 Seguitemi 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 No non riusciremo mai A fare questa cosa Eh Eh Va bene allora Eh no un po' Vedete vanno lì qua per forza Vanno a spaccare sta roba Spaccano le palle più questa roba Però va bene Vedremo Se ce la fanno lì eh Loro Guarda il cazzo sta andando Ok Loro mi vanno un attimo di qua Fermi Pausa Questi Mi vanno un attimo qua Lo so Questi dove siamo Ok qua sono Stacco E cazzo Ok però Non sono sufficienti E adesso però non posso metterla Vediamo se resiste qua Dai 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 resistete Resistete Andiamo a vedere Andiamo a vedere dall'altro lato Siamo messi Perché sono questi quelli forti Orcaccio Giuda Questi bucano Questi bucano Questi bucano No Non dovrebbero neanche bucare Eh Ce l'hanno fatta egregiamente Ok Ok Fantastico Non hanno rotto neanche tanto le palle Queste cose Avete visto Grande 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 Visto il cibo Fermi tutti Qua abbiamo della pietra da usare Dell'oro da utilizzare Facciamo così Aggrade tutte le case E ci manca energia elettrica Quindi Poi andremo a fare anche l'energia elettrica Ok Molto bene Vediamo sta roba Al mercato l'abbiamo fatto Mi sembra raga Che comunque stiamo messi adesso abbastanza bene E andrei avanti qua con queste Produzione di energia Per una volta Potrebbe bastare Ma che cazzo sto dicendo Vabbè Allora Quanto stiamo? Eh stiamo messi male Bene Sto guardando i tempi di registrazione Ragazzi Siamo messi male Quindi Diciamo che Io mi fermo qui per il momento Ci vediamo alla prossima Dai Fatemi sempre sapere la vostra Nei commenti Datemi un feed Cazzo Però io vorrei tornare a casa Caccia la miseria Se diventa troppo lungo sto coso Bene Quindi ragazzi Diciamo che io mi fermo qua Grazie a tutti per essere stati con me Ci vediamo alla prossima Dalle un trip è tutto ragazzi Dai commenti e condivisioni Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti